D'accordo, attraverso un dono un po', x to the core x, equal to q to the core 2048, e anche 2.048 , i d'accordo, 2048 e anche il m'avano d'accordo, 1024, i ava 1224, i ava 1224, i ava 1224, 2, 5, 6 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6 1, 2, 8 2, 3, 4, 6, 4, 3, 2, 6, 4, 3, 2, 6, 4, 6, 4, 7, 8, 8, 8, 9, 10 e2, 0, 4, 8 e2, 0, 4, 8 ok ora vediamo 2 e 2 e 2 e 2 e 2 2 e 2 e 2 i 2 e 3 e 2 e 2 e 2 2 to the power a, mentre ho abbiamo , il nostro avanti è benissimo x to the power a A next year we can go to A to power A to power A, from A to power A to power A, and then M we can see how to do A to power A into A, then we can accept A to power A, from A to power A, and then we can see, questo autore per il bel appo il appo il appo il appo il appo il appo i dotteggi la caccia di resta dottore la caccia di resta dottore all'interesse ase qui divinati a di padre e di padre l'evo a di padre e dottore 2 4 8 16 32 64 128 256 256 ai dir? 6 16 50 nota仍 ... ... Ok? Lìa?